Un approfondito confronto su economia, crisi, lavoro e occupazione, anche alla luce dei dati diffusi dall'osservatorio provinciale, con anche qualche polemica e vivaci scambi di accuse tra segretario provinciale della CGL Massimo Bussandri e il sociologo Giorgio Triani. Ruolo del sindacato, rendite di posizione, il lavoro che si trasforma. Ieri sera a Parma Europa, con replica stasera alle 23, c'erano in studio anche Marco Vagnonzi del Movimento 5 Stelle e Saurosalati della Funzione Pubblica CGL. Molto spazio alle vertenze Cerve e Palitalia e sull'azienda vetraria del quartiere San Leonardo una buona notizia. Siamo a un punto di svolta, ci auguriamo positivo, perché c'è stata un'apertura dell'azienda a non procedere unilateralmente con i percorsi di messa in mobilità, con i licenziamenti collettivi dei lavoratori, ma a ragionare su un percorso di cassa integrazione straordinaria e anche di utilizzo di forme volontarie, di accompagnamento alla pensione o comunque di forme di mobilità volontaria. Tutto questo subordinato a un incontro al Ministero che c'è stato oggi, poi dopo venerdì mattina, se non sbaglio, lo spiegheranno meglio i delegati, è previsto un nuovo incontro in sede sindacale e ci auguriamo che la vicenda possa assumere un contorno più accettabile. Resta il fatto però, e poi voglio davvero dare la parola ai diretti interessati, le vicende Palitalia e Cerve ci danno degli insegnamenti. Palitalia, un'azienda che fallisce con impancia commesse per 18 milioni, si diceva, di euro. Con una situazione stranissima per cui ci sono dei potenziali acquirenti, ma la curatela vuole determinate garanzie per cui si chiede prima di attivare lo strumento della cassa integrazione straordinaria che sarebbe possibile da domani mattina che i lavoratori sospendano i rapporti di lavoro, una cosa assurda mai vista se ricorrono i presupposti della cassa integrazione, ci torneranno sopra i diretti interessati. Cerve, 128 esuberi dichiarati dalla sera alla mattina così, senza nessuna avvisaglia, probabilmente mi viene da sospettare perché poi il piano industriale consegnato non ha lasciato capire, intendere nulla di quello che c'è veramente dietro e di come ci si propone di risolvere la situazione, mi viene da sospettare per rendere eventualmente il sito di Parma più appetibile a qualche eventuale acquirente nell'ipotesi che la proprietà avesse voluto mettere in vendita l'azienda. Questa mattina invece la FIOM CGL ha presentato la lettera di diffida che sarà inviata alle aziende metalmeccaniche sul Jobax disciplina licenziamenti, mansioni, controllo a distanza e appalti. Massimo Bussandri, sempre ieri sera a Parma Europa, ha anticipato i contenuti. Questa in realtà è un'iniziativa della FIOM regionale dell'Emilia-Romagna che appunto invia anche sul nostro territorio, quindi a tutte le aziende del nostro territorio, una lettera di diffida all'applicazione di quelle che sono tutte le principali caratteristiche del corpus normativo che va sotto il nome di Jobsat, quindi dalla questione dei licenziamenti illegittimi e delle tutele crescenti, che sono in realtà tutele calanti, insomma diritti calanti, alla questione del demansionamento, alla questione dell'utilizzo delle tecnologie per il controllo a distanza dei lavoratori. Parteciperà anche la Confederazione, la FIOM ha chiesto, la FIOM di Parma ha chiesto alla Confederazione di partecipare a questa conferenza stampa, perché anche la Confederazione di Parma, come in tanti altri territori, è impegnata in una vasta azione locale di contrasto e di potenziamento del Jobsat, sia lavorando con le istituzioni, in particolare sul tema degli appalti, sul quale poi magari mi piacerebbe tornare due minuti, sia ponendo questo tema e lo abbiamo condiviso in esecutivo, quindi con tutte le categorie che formano la nostra Confederazione, nella contrattazione di secondo livello.